Buongiorno, questo video per illustrarvi una operazione di trading che abbiamo appena concluso, un'operazione effettuata sul titolo Interpump, un'operazione che è durata tre giorni. È stata aperta venerdì scorso, lo scorso 2 ottobre abbiamo avuto una prima candela rialzista che ha superato al rialzo, quindi rotto la media mobile e successivamente nella candela successiva siamo entrati long sul massimo della candela precedente sul livello 31,48. Abbiamo tenuto ovviamente l'operazione long overnight, l'abbiamo tenuta per lunedì, il 5, il mercato ha continuato a salire realizzando un piccolo massimo anche in apertura della giornata di martedì 6 ottobre che invece è stata negativa con un ritracciamento e poi la giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre, invece ha visto le prime 4 ore, perché questo è un grafico a 4 ore, decisamente rialzista con addirittura la realizzazione di un massimo sul 32,74. C'erano tutte le migliori aspettative perché questo sforzo rialzista potesse continuare ancora, in realtà le successive due candele sono state negative, la prima ci poteva stare perché era un ritracciamento, la seconda no, nel senso che non mi è per niente piaciuta, mi aspettavo la continuazione del rialzo. E proprio perché è negativa ho deciso in chiusura di giornata di chiudere l'operazione sul livello 32,46. Quindi aperta a 31,48, chiusa a 32,46, abbiamo guadagnato, ho guadagnato 98 centesimi in tre giorni, si tratta di una performance del 3,11%, avevo un controvalore di circa 15.000 euro, in particolare avevo 450 azioni, quindi ho portato a casa in tre giorni 441 euro lordi. Questa è l'operazione effettuata e chiusa. Grazie per l'attenzione.